importante è? no vincere basta questa cosa? questo è mi sono scordata già è tutto in mano mia, piattino stellato bellissimo e abbiamo un segreto noi Lisa buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi porto tutto il giorno con me quindi incominciamo questa giornata insieme che potevo incominciare sinceramente un pochettino meglio perché scopro ora che c'è sciopero dei mezzi a Milano ci saranno 10 gradi per fortuna non piove, io mi sono appena portato un motorino perché era l'unico modo per riuscire ad arrivare dall'altra parte della città perché oggi c'è un evento di MyProtein quindi dopo un stacco di tempo un stacco di anni vedrete tantissimi di noi che lavorano nel fitness insieme raga non vedo l'ora città delle persone che non vedo anche da un sacco di tempo, sono troppo felice a questo punto incominciamo questa giornata e metto una felpa perché sennò muoio di freddo e ci vediamo là, poi vi spiego tutto vamos e riusciamo all'altra parte della città buongiorno buongiorno e ci sono anche Valerie la Frankie olè pronte? Instagram non va oggi comunque come non va o no? ci prego adoro c'è proprio oggi e quando tu sarai in televisione? vedi sei tu che sfiga che sfiga raga colpa mia ma dove ci state portando? Edo ma dove ci hai portato? eh ora lo vedrete adesso ci sono delle bandane da mettere cosa ti lamenti tu già? che voglio solo le donne di MyProtein non voglio gli uomini gli uomini non servono è solo loro sono i bodyguard metto una barucca sono tutte gemelline aspetta no rifaccio eccomi qua cambiata in realtà siamo tutte cambiate siamo tutte delle gemelline col top bianco e i pantaloni neri oltretutto ci hanno anche regalato alcune cosine dentro la borsetta e sono diverse dalle nostre cosa? non ha neanche senso una borsa una leggera sì? ci sono andate delle barrettine diverse e nella nostra borsetta che la mia è diversa dalle altre mi hanno detto c'era uno shaker delle barrettine proteine una felpa ah eccola qua protein shake al cioccolato che fa sempre bene la protein spread e loro che mi prendono i cibo no no io ho fatto una fai ok e io ho fatto una bancarella qua per terra per fare vedere le cose una garamella? ah no adesso no grazie no volevo un caffè più che altro anche voi dovete prendere io l'ho preso però lo riprendo allora ok allora tra poco incomincieremo la nostra sfida di cucina oltretutto siamo divisi a squadre ognuno di noi ha delle mascherine di colore diverso io sono in una squadra rossa e soprattutto devo recuperare la mia mascherina che è tipo infognata nella borsa adesso mi metto il grembiulino e niente sono pronta a cucinare io spero di essere qualcuno di forte perché ho letto il menù e raga ci sono delle cose è con me è vero noi due stiamo insieme quindi ragazzi ho una buona spalla per cucinare oggi sarete divisi in due squadre voi farete il primo piatto e il dessert per il primo piatto e per il dessert abbiamo introdotto i prodotti MyProtein io felice di essere rossa perché secondo me il dolce è quello più facile da fare quindi direi che fa per me qua ci sono tutti gli ingredienti per il nostro dolce Michael si è già lanciato e cos'è che è questa cosa? questo è mi sono scordato già questo è il crumble al cacao con sale malto appena termina lui con questo impasto continuerete va bene allora verrà buonissimo sicuramente con la mia base non ci dicono bisogna assaggiare gli ingredienti per capire una fraula è molto buona allora se me ti deve abbassare tutti ci siamo eccomi alla mia altesta è tutto in mano mia quindi niente lo metto così totalissima ma a mano lo cospargi dopo tutta la teglia ma tu lo soppertutto no perfetto bravissima la squadra verde invece sta preparando il salato quindi andiamo a vedere tu hai già visto cosa faccio? a dire il vero no per me ravioli che io non so proprio come si facciano perché sono partiti anche dalla pasta fatta in casa cioè sono stati più bravi di noi era un po' più difficile forse forse un pochino la squadra rossa dolce a ventaglia tra fragole e basta esatto i carriani li mettiamo qui dentro allora dopo averlo sì ma adesso l'ho già messo troppo io abbondo sempre quanti ne devi fare? cinque no in totale 75 più 5 quindi 80 quindi questo è per mezzanotte per mezzanotte ce la facciamo a mangiare questo lo faccio io ma qua ti fa schifo guarda ma qua ti fa schifo hai ragione però guardate com'è il mio e come dovrebbe essere questo sarà una bastardata capiva pepe e questo è una cosa un esperimento il tuo attello per il fortunato vediamo fare un piccolo scherzo scherzettino siamo pronti per l'antipasto esatto che andremo a fare noi oltretutto ognuno farà il suo io sono preoccupato per il mio ma a me può fare pure il mio non lo so se ti conviene avrebbe senso avrebbe senso sono grossi questi passi è brutto scusa la salsina al miele no ti vedo un po' in difficoltà ragazzi ma sapete che io quando entro in cucina c'è blackout basta bambam olio no l'altro scopro ora ok olio evo e basta è pronta il mio piattino stellato bellissimo possiamo fare cambio se vuoi vediamo vabbè dai no si è fegnata ma che bella è bella però vi tengo questa sono veramente diamo il merito a queste fanciulle queste queste vale vale lì belli eh belli eh come metti a Omas guarda è Thomas siamo stati proprio in grande e abbiamo un segreto noi Lisa che forse qualcuno condividerà all'ospedale all'ospedale buon appetito e il raviolo è con la barbabietola siamo anche al secondo con un filetto di maiale affumicato questo dolce è fatto quasi interamente con prodotti mai pronti ne voglio mangiare 800 ragazze è buonissimo sembra gelato sfida in cucina terminata tutto buonissimo ma la mia squadra ovvero la squadra rossa ha perso è stata davvero strazzata ma no ragazzi si sono comprati la vittoria ok hanno fatto un po' di magheggi bisogna dirlo Lisa è una ragazza molto così lo sapete brava non dice le cose però non sapete lavorare non sapete cucinare però ne sono stati molto bravi comunque adesso tra poco andiamo in palestra e lì ci saranno anche altre sfide quindi la squadra rossa si rifarà sicuramente andiamo eccoci qua tutti insieme in palestra adesso facciamo qualche foto qualche video e poi incomincerà la sfida vera e propria raga io sono carichissima davvero la sfida in palestra non me la voglio perdere eh quindi adesso vi andremo a spiegare la sfida di oggi praticamente ci sfideremo in alcuni esercizi siamo sempre divisi a squadre e abbiamo da fare push up trazioni squat barpees credo e poi vado a chiedere meglio siamo un sacco di persone quindi andremo a fare una sfida a staffetta andremo a seguire 50 trazioni poi abbiamo 100 squat 50 push up e 50 stacchi 3 2 1 via che qualità vai vai sic facile uno dai 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 4 dai 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 5 dai 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 1 Vai a un tecnicimo! 1 ai 25! 2, 1, 2, 1, vai! 1, 1, 1, 2, ma vai, vai! 2, 1, 2, 5! 3, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 7… 2, 3, 4, 5, 6, 6! vai lui per là, lui per là! 8! 8! avancio ancora! 6! 6! 6! 6! 2! 11! 10! 10! 10! 10! 10! 1! 2! Vai! 20! 6! 7! 8! 9! 10! 10! 1! 10! 1! 10! Sfida terminata! Se volete vedere la sfida completa ve la lascio qua sotto linkata in descrizione nel video di Showtime! Adesso abbiamo perso! È successo! Che il gruppo dei street warrior sono dei poor bet! Secondo me è imbarato un po' vero? Un po' sì, un po' tanto, però vabbè, lasciamogli la buona! Lo spirito sportivo dice? L'importante è? No, vincere basta! Io non volevo vincere! Ero straguerrita! Scusami! Sono come te! Infatti ci dovremmo ripare per forza! Sono le sei e mezza! Ragazzi, sono abbastanza distrutta, lo ammetto! Riprendo un po' di forza con questa barrettina! Che vi consiglio, oltretutto, al gusto caramello! Buonissima! Vi lascio qua sotto anche in iscrizione il link dello store di MyProtein! Il codice sconto da utilizzare per avere sempre il massimo degli sconti! E spero che tra poco in realtà si vada a cena perché già c'è più! Salute! 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 Bravo! Le dibattezze qui abbiamo, eh! Una gattana, non lo so io! Sì, tu sì! Dentro del gatto! Salute! Ed eccomi qua tornata a casa! È l'una e mezza, mamma mia! E sono fuori da stamattina prestissimo! È stata davvero una giornata stupenda! Ho potuto conoscere tutti molto meglio anche perché la maggior parte di loro magari li conoscevo soltanto tramite i social, quindi tramite video youtube, story, instagram... Devo dire che siamo proprio un bel team! Infatti non vedo l'ora che un'esperienza del genere si rifaccia al prima possibile, infatti MyProtein, per favore, organizza qualcos'altro! E quindi anche questo video finisce qui! Come al solito se tutto ciò è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video! Ciao! Parlo piano perché è tardissimo e tutti dormono!